Come mai qui in terra sana? Io vado dove mi pagano. Arrivo, consegno il carico e via. Guarda come bella questa città. Sembra sospesa in un'atmosfera magica. Ogni chiesa qui ha trovato il suo luogo sacro. Fede diverse e tante, tante guerre. Dio può fare ogni cosa, eh? Perché non è intervenuto per evitarlo? Sicuramente Dio non esiste! Chiamalo come vuoi, ma lui c'è sempre. Ha cambiato forma, ha cambiato nome, ma è sempre presente per gli uomini. L'anima. Tu hai perso l'anima. Non ci sono risposte definitive. Abbiamo solo una nostra strada.